Ciao! No, non voglio sapere nulla. Lasciamo del mistero fra di noi. Vabbè, almeno di cosa vogliamo parlare. Di nulla, di nulla. Non voglio sapere niente, non voglio parlare di niente. Ma questo incontro non c'è mai stato. Perfetto. Ma se volessi trovarti, provarti... Cercami fra la folla. Allora magari potrebbe essere utile se ti lasciassi il mio biglietto da visita. Perfetto. Non vuole ricontattarmi.